Musica Buonasera, buonasera da Ondarigibri, abbiamo subito la cronaca con la notizia del giorno, trovato cadavere in una grotta all'interno di un sacco a pelo, tragica scoperta a Castrovalva sul territorio comunale di Anversa degli Abruzzi, l'ipotesi è quella dell'omicidio ma sarà l'autopsia a fare luce su questa terribile vicenda, sentiamo tutto nel nostro servizio. E di un anziano sugli 80 anni circa di età il cadavere rinvenuto su una grotta sul territorio comunale di Castrovalva di Anversa degli Abruzzi nelle prime ore di questa mattina. Il cadavere è stato trovato in un sacco a pelo, con il volto sfigurato. Quel cadavere potrebbe essere in quel luogo già alcuni giorni, una settimana forse o anche dieci giorni, tenuto conto dello stato avanzato di decomposizione. Sfigurarne il volto sarebbero stati gli animali. Così nel giallo avanza l'ipotesi di un omicidio, forse compiuto altrove, con il cadavere portato poi in quel dirupo lungo la strada verso Castrovalva. La procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un'inchiesta sul caso, ha disposto l'esame autottico per fare luce sulla vicenda, con il trasferimento della Salma presso l'ospedale Gemello del Santissimo Annunziere di Chieti. Restano in piedi anche le ipotesi di un malore, di un abuso di farmaci, di avvelenamento, insomma sindaca, su tutte le piste. La zona è stata presidiata dai carabinieri della compagnia di Sulmona, che hanno vietato l'accesso alla strada anche ai residenti del piccolo borgo. La cronaca giudiziaria, dal carcere ai domiciliari senza benzina, la giustizia paga il viaggio al giovane arrestato per droga. Un particolare che è venuto fuori proprio al termine dell'udienza di convalida, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Due ore di autostrada da Sulmona d'Ostia per assaporare un pizzico di libertà dopo circa 24 ore di reclusione, ma non ha i soldi per tornare a casa, così il tribunale li paga il viaggio di ritorno. Si tinge di colore la vicenda abbalzata alle cronache, che vede protagonista il 23enne romano, SB, le sue iniziali, tratto in arresto dalla Guardia di Finanza lo scorso 28 luglio, poiché è trovato in possesso di un chilo di droga tra ascisce e marihuana nel corso di un controllo svolto nella frazione di Bagnaturo. Lo stesso nella sua auto deteneva la somma contante di 2.000 euro divise in banconote da 50, tutte sequestrate al termine della perquisizione personale veicolare, poiché considerate presunto provento dello spaccio. Si sono aperte a quel punto le porte del penitenziario sul Monese, fino all'udienza di convalida di ieri, quando il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, una misura catelare meno afflittiva in quanto incensurato. La tesi dell'acquisto di gruppo per gli amici sul Monese non solo non ha convinto il giudice, ma ha gravato il quadro indiziario a suo carico, poiché nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla mentalità criminale. L'aneddoto curioso arriva in calce al provvedimento. Il 23enne è stato infatti autorizzato a spostarsi con mezzi propri presso la propria residenza di Ostia per scontare gli arresti domiciliari, ma facendo due conti era rimasto senza un euro, quindi senza gasolio per affrontare controesodo. Per questi motivi il giudice Francesca Pinacchio ha autorizzato lo sblocco della somma di 100 euro per permettere all'indagato di raggiungere il proprio domicilio e stato di arresto. Somma che ovviamente il 23enne dovrà restituire, essendo parte integrante del materiale sequestrato. Ma il castello accusatorio di certo non cambia. Li rubano l'auto, la distruggono dopo l'incidente, la rottamazione però è a suo carico. Qua dell'incredibile la storia che vede protagonista un anziano di Sulmona, tra fatalità e assurdità. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Dovrà pagare la rottamazione dell'auto che gli è stata rubata, distrutta nell'incidente. Ha dell'incredibile la vicenda che vede protagonista un anziano di Sulmona che l'altro giorno si è recato negli uffici della polizia locale dopo aver riconosciuto la sua Fiat Panda, rubata, utilizzata per circa due mesi dal 36enne originario di Roma. Completamente danneggiata dopo la scena da film girata dal giovane romano, dalla circonvalazione orientale a Via Pola, fino allo schianto contro il muro di cinta di una villa, L'anziano aveva lasciato la vettura in sosta sotto casa della figlia in Via Maiella lo scorso 23 maggio per consegnarle la spesa. Nel giro di un quarto d'ora l'auto si era volatilizzata. Approfittando delle chiavi lasciate sul tappetino, il ladro di vetture si dileguò facendo perdere le tracce. All'anziano non rimase altro che affidarsi alla giustizia, tant'è che presentò denuncia presso il commissariato PS di Sulmona. Peccato che tutti i nodi vengono al pettine. La guida pericolosa del giovane tra le strade della città, nonché la fuga dal nosocomio dove si trovava ricoverato, hanno permesso di risalire all'auto rubata, formalmente a Bugnara, vista la residenza dell'anziano, ma nei fatti a Sulmona. E' stato quindi disposto il sequestro del mezzo. Dopo due mesi di speranza e sofferenza, la vittima del furto ha ritrovato in qualche modo la sua compagna di viaggio. Peccato che ora dovrà presentare stanzare di sequestro per averla indietro. E poi, visti gli incendi danni causati dallo scontro, non gli resterà altro che rottamarla, ovviamente di tasca propria. Una vicenda surreale tra assurdità e fatalità, è il caso di dirlo. Lo scenario del post-emergenza in Sartoria e in ospedale, ma la curva epidemiologica continua a scendere. Sul territorio Peligno Sangrino sono 69 nuovi casi di Covid-19 messi a referto. Facciamo il punto nel nostro servizio. Avanti tutta con la discesa del contagio sul territorio Peligno Sangrino, anche se il virus non molla le strutture sensibili del territorio. Sono 69 i nuovi casi di positività al Covid emersi in giornata, comprese 5 reinfezioni, così distribuiti. 26 a Sulmona, 9 a Prato-La Peligna, 5 a Scanno, 4 ciascuno a Revisondoli e Castel di Sangro, 3 a Corfinio, 2 a Testa per Scontrone, Raiano, Pescassero, Lintro d'Acqua, Coriano Sicoli, Vittorito. Un caso ciascuno per Ocaraso, Pacentro, Opie, Casteldieri, Campo di Giove e Bugnare. Il contagio mantiene il suo carattere comprensoriale, toccando piccoli e grandi centri della vallata, anche borghi turistici. Tuttavia la curva continua a scendere. Dalle 83 positività dello scorso sabato si è passati alle 69 odierne. Una rilevazione che permette di affrontare con relativa serenità e il weekend di Giostra, senza troppi slanci emotivi, viste le presenze attese e i contagi che hanno colpito in queste ore qualche componente delle varie sartorie. Ancora in affanno l'ospedale di Sulmona, le prese con i piano ferie e la carenza di personale. Una nuova positività si è riscontrata sull'infermiera della rianimazione. Complessivamente sono 1565 gli attuali positivi sul territorio, a fronte di appena 6 degenti, tutti in area medica. Per le nuove guarigioni c'è da aspettare. Termina qui la prima parte di Onda Rigi. Torniamo tra poco con le nostre notizie. C'è un profumo di nuovo Sulmona. Un profumo color rosa cipria. Anna e Laura hanno deciso di stupirvi. Con profumi per uomo e donna. Le nuove idee regalo e gli accessori consigliati da chi se ne intende. Eleganza e professionalità. Vi aspettano alla profumeria rosa cipria. In via Papa Giovanni XXIII sulmona. Riconquista la tua serenità e vivi di nuovo tutte le emozioni della vita. Fonia apparecchi acustici e il tuo udito non sarà più un problema. Contattaci allo 0864 56 63 97 e insieme troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze. Visite e assistenze gratuite anche a domicilio e prova dell'apparecchio per 30 giorni. Fonia, professionalità e innovazione al servizio del tuo udito. Via Giovanni Panza II sulmona. www.acusticafonia.it Da Valdomoto vieni a scoprire Silence S01. Lo scooter elettrico 125 per la mobilità urbana ed extraurbana che ti permette di percorrere fino a 133 km in autonomia. Lo ricarichi con una comune presa di corrente o se vuoi porti via la batteria grazie al sistema di trasporto trolley di cui è dotato. Prestazioni da moto. Da 0 a 50 km orari in 2,9 secondi e 100 km di velocità. 16 cavalli di potenza e si guida con la patente A e B. Scarica l'app Silence e tieni tutto sotto controllo. È un'esclusiva Valdomoto. Vieni a provarlo in concessionaria a Pescara e sulmona. Silence. Secondo a nessuno. Ciao amici. Volevo dirvi che sono veramente felicissima e onoratissima di essere stata scelta come madrina il 4 settembre a Pacentro per la pluricentenaria Corsa degli Zingari. Io non conoscevo bene questo evento. Sono andata a informarmi su internet e sono rimasta meravigliata del coinvolgimento, dell'energia che hanno questi ragazzi che pensate scendono scalzi di corsa dalla montagna. Quindi vi aspetto tutti quanti puntuali dalle 16 in poi per ammirare questo spettacolo. Ringrazio tantissimo il presidente Giuseppe De Kellis che ci tiene tantissimo alla riuscita di questo evento ma noi sinceramente non abbiamo dubbi caro Giuseppe. E ringrazio la Royal Agency del mio amico impresario Fabrizio Tucci. Grazie a tutti quanti voi perché stanno per realizzare un evento unico al mondo. Ci vediamo il 4 settembre. Goditi le belle giornate all'aria aperta. Punto Brico Raiano ti aspetta con tante fresche offerte e soluzioni per il tuo arredo esterno e articoli da giardino. Barbecue in muratura, grigliati in legno, staccionate, tende da sole, set da giardino e tanto altro per abbellire e vivere i tuoi spazi esterni. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale di Raiano. Scopri tutte le nostre offerte anche su Facebook e Instagram. Punto Brico Raiano, la miglior soluzione per il fai da te. Dei supermercati pick up, puoi fidarti. Risparmi a tempo, una spesa semplice e veloce in tutti i reparti. I nostri prezzi sono leggeri tutti i giorni. Crema pan di stelle, 380 grammi, 2,99 euro. Latte parzialmente scremato granarolo, 1 litro, 99 centesimi. Pasta alla molisana, 500 grammi, 85 centesimi. Passata di pomodoro mutti, 700 grammi, 85 centesimi. 50 cialde caffè Borbone e miscela nobile, 7,99 euro. Supermercati pick up. Sul Mona, via Gennaro Sardi e Popoli via dei Faggi. Di noi puoi fidarti, sempre. Per chi bada all'essere e non all'apparire, Scambini Abbigliamento. Da oltre 50 anni, il fashion store per chi veste con stile e personalità. Abbigliamento uomo-donna, dalle taglie slim alla oversize. I casual classico per vestire l'adulto, le ultime tendenze moda dedicate ai più giovani e la cerimonia per i momenti importanti. Scambini propone la stessa qualità delle grandi firme a prezzi molto più bassi. Per un total look garantito. Inoltre, troverai anche un competente servizio di sartoria. Scambini Abbigliamento. Largo Palizze 3 a Sul Mona. Da oltre 50 anni, veste il tuo stile. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'udito maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni, facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onderigiri. Partiamo dalla pagina dell'occupazione e del lavoro. Altri 60 esuberi alla Magneti Marelli di Sul Mona. Un futuro sempre più incerto per la FIOMM CGL della provincia dell'Aquila che scatta la mara fotografia. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Dopo 21 complessive uscite e altri 60 esuberi per lo stabilimento della Magneti Marelli di Sul Mona, a scattare la fotografia alla FIOMM CGL della provincia dell'Aquila a seguito dell'incontro con l'azienda, Il dato sui volumi evidenzia un progressivo calo sia sull'auto che sul Ducato a partire dal 2019 con un drastico crollo nel primo semestre 2022, il quale, stando alle previsioni, sarà solo parzialmente recuperato nel corso del secondo semestre in corso, ma comunque confermando l'andamento negativo rispetto agli anni precedenti. La fotografia attuale restituisce uno stabilimento che dopo 21 uscite complessive, 14 con incentivo, 7 con contratto in espansione, prevede ancora 60 esuberi. Se da un lato la commessa viene descritta come un'opportunità, quella della Polonia, dall'altro va osservato innanzitutto che non è aggiuntiva, ma va a compensare una flessione della commessa Sevel. Se paragonata a questa, non i montaggi, dunque certamente meno redditizia, e di fatto va a creare presupposti per un'altra perdita di manotobera, osserva la FIOMM, facendo pure notare che è ufficiale che uno dei due forni sarà spento a causa di un cambio tecnologico da parte del cliente. Quanto agli ammortizzatori sociali, abbiamo già preso posizione, dicono dalla FIOMM, nelle prossime settimane, dichiarando l'incoerenza di far convivere cassa integrazione e lavoratori a 18 e 20 turni, che per via di questo meccanismo legato a una negligenza gestionale, all'incuria degli impianti, stanno stuzzubendo, continua a perdere sul proprio salario. Proseguono dalla FIOMM che conclude, stante questa situazione ci chiediamo quale organico, quali volumi emmente l'azienda quando parla di centralità dello stabilimento di Sulmona. Al contrario di altri, visto il quadro complessivo, riteniamo che ci sia ben poco da festeggiare. Con l'auto al mercato e tensione in centro storico, ancora traffico selvaggio per il consigliere comunale Salvatore Zavarella, un immobilismo ordinario. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Nonostante i vieti parcheggiano nell'area del mercato in zona tribunale, si è reso necessario l'intervento della polizia locale questa mattina per riportare l'ordine in via Papa Giovanni XXIII, il traffico selvaggio continua ad essere un fenomeno diffuso in città, dal centro storico alle periferie. Transenne ordinanze in bella vista non sono bastate per frenare gli indisciplinati automobilisti. Il controllo della viabilità si scontra, peraltro con la carenza di mezzi e risorse umane, generando un clima di tensione. Il fenomeno risulta ancora più incisivo nel centro storico. Dopo l'incidente dello scorso 28 luglio, con l'auto investita in piena 0 ATL, nella serata di ieri è scoppiata una discussione tra un automobilista e una pedona per il passaggio in centro in prima serata. Una pattuglia della Guardia di Finanza, impegnata nei controlli del territorio, ha stemperato i toni. Alla base del fenomeno c'è sicuramente un approccio culturale da rivedere, oltre alla filiera della programmazione dei controlli, che si spera subirà un maggiore impulso. Ed è il giorno della giostra cavaleresca di Sulmona, il debutto dell'edizione della ripartenza. Entusiasmo, curiosità, spettacolo, sia lungo le strade del centro storico e anche sugli spalti. Vediamo le primissime immagini di questa edizione. I vincitori della venticinquesima edizione e della giostra cavaleresca di Sulmona. Parliamo proprio del porto San Pampilo. Ricordiamo che l'ordine d'ingresso dei bucchi e dei sestieri in piazza maggiore non consiste in nient'altro che nell'inverso dell'ultima classifica, e appunto in questo caso la classifica della venticinquesima edizione della giostra cavaleresca di Sulmona. È un piaccia che spazzerà, che amaffichisce questaidy qua di alla giostra. Il ritorno interesse la netta che spazzerà. Nel ritorno interesse dove la victoria risorga La chiama, che schiava, di Roma e di Europa. Fratelli d'Italia, l'inocchio sedesto, dell'elmo del scendio se cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porta la chiama, che schiava, di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a covorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a covorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Trappello, privato! Trappello, attenti! Presentato! Onori alla città di Sulmona! A sinistra, in colonna, basso! Grazie! 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 Più forte, più forte l'applauso di Piazza Maggiore, per il quarto ricevimento carabinieri, a cavallo guidato dal brigadier Salvatore De Castelis. Grazie dello spettacolo, questo è l'applauso della piazza e di la città di Sulmona per voi. Buonasera a tutti, grazie all'autorità civile e religiosa che sono presenti qui oggi. Credo che meglio di così non potevamo iniziare dopo tre anni di stop. Abbiamo sofferto, noi come i bordi e i sestieri, tutte le persone che vedete all'altro lato che in questi tre anni non si sono fermate. Hanno continuato a lavorare per arrivare qui oggi, in questa splendida piazza. E lasciatemi dire, c'è emozione, c'è emozione a venervi e a vedere questa piazza realizzata dopo tutto questo tempo. Io non mi voglio prolungare di più perché siamo già andati un po' oltre. Quindi vi dico grazie ancora a tutti e buona giostra a tutti quanti voi. Grazie ancora. Buonasera e voglio darvi un grande grazie a tutti e a tutte le autorità cittadine. Tutti abbiamo sofferto durante questo anno. E adesso un applauso fortissimo per i cavalieri in campo. Le sfide di questa giornata vengono fatte su scontri diretti. Ogni cavaliere dovrà affrontare quattro avversari. Ovviamente vi ricordo che domani sui canali 8.82 di Sky, sul canale 90, 13, dalle terrestre, sulle nostre piattaforme YouTube, la nostra pagina Facebook, trasmetteremo in diretta proprio la fase clua, la fase finale di questa edizione 2022 della giostra cavaleresca, a partire dalle 17.30 circa con il collegamento della centralissima piazza Garibaldi. Intanto l'aggiornamento arriva ad Anversa degli Abruzzi perché dei nuovi focolai sono stati nel pomeriggio avvistati proprio a Pizzo Marcello, dove qualche giorno fa un pulmine ha innescato un incendio che era stato domato, quindi un ritorno di fiamma che però è contenuto. Si sono alzati gli elicotteri in volo. Ed ora ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra. Buona notizia. Si getta il cuore oltre l'ostacolo, nonostante tutto si ha ancora il coraggio di investire e di allargarsi in città. Dal quartiere di via Papa Giovanni XXIII al pieno centro storico, in pieno corso video, la profumeria Rosa Cipra raddoppia non solo un segno di speranza, di luce in fondo al tunnel, ma il profumo dell'investimento in questo momento così delicato. L'idea è nata dal portare la nostra professionalità, la nostra conoscenza, anche in questo angolo di Sulmona che è molto distante da quello che tutti conoscono della sede principale della profumeria Rosa Cipria. Dopo sette anni abbiamo avuto questa occasione e quindi abbiamo voluto cogliere al volo questa esperienza in più per noi. E quindi niente, abbiamo aperto questo piccolo negozio, questa piccola boutique, tutta per voi, sempre Rosa Cipria, del corso, con le stesse caratteristiche della profumeria che abbiamo di là, con qualche novità prossima. Abbiamo trovato questo bellissimo punto vendita che a noi ricordava tantissimo il nostro, quindi lo stesso angolo che abbiamo noi in via Papagiovanni XXIII. Pertanto abbiamo deciso che poteva essere proprio il locale giusto. Quindi vi aspettiamo, vi invitiamo a venirci a trovare, lo abbiamo fatto anche e soprattutto per le persone che vivono comunque sul corso. Non intendiamo spostare le nostre clienti da via Papagiovanni che sono ormai di quella zona. Invitiamo le persone del corso che vivono qui, i turisti che ce ne sono sempre tanti e che sempre dalle parti nostre non vengono e quindi abbiamo scelto appunto di aprire questa piccola profumeria qui in centro. Ciao Cipriette, vi aspettiamo! Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda DG che come di consueto torna lunedì. A tutti buon fine settimana, buona domenica. Buon fine settimana, buona domenica.